Dal nuovo anno accademico sarà attivo ad Unicam il corso di laurea in scienze dei materiali, novità nel panorama nazionale ed unico nelle marche, corso con forte caratterizzazione all'innovazione e alla sostenibilità che si caratterizza per una spiccata interdisciplinarità ed ha l'obiettivo di fornire una solida preparazione sia chimica che fisica con conoscenze e competenze relative alla costruzione e alla caratterizzazione di materiali innovativi. Il corso di laurea triennale in scienza dei materiali presso l'Università di Camerino che partirà in questo anno accademico del 2023-2024 si caratterizza per una spiccata interdisciplinarità tra la chimica e la fisica proprio perché qui a Camerino è da lungo tempo che si lavora appunto sui materiali e la chimica e la fisica sono delle scienze che si fondano sulla sintesi magari di materiali, sul lavorare con i materiali sia da un punto di vista appunto come vedete dietro di me della loro sintesi che dell'applicazione, quindi delle loro proprietà. Quindi il corso di laurea vuole formare laureate e laureati che sono volti proprio a quello che è all'esperto in scienza dei materiali che è volto alla professione aziendale alla fine del corso di laurea triennale e poi può anche aspirare a una laurea magistrale in chimica, in fisica e in scienza dei materiali successivamente per poi approdare in un percorso anche di dottorato. Come potete vedere qui ci sono diversi tipi di materiali con cui lavoriamo e diciamo questo connubio, il perfetto connubio tra la chimica e la fisica permette appunto di studiare i materiali dall'atomo fino alla sua proprietà chimico-fisica. Scegliere questo corso di laurea triennale significa acquisire una preparazione molto accurata, approfondita in chimica e in fisica per appunto incontrare l'esigenza tanto della sintesi, della preparazione del materiale stesso quanto della sua caratterizzazione nelle varie proprietà sia diciamo intrinseche che poi applicative. Per incontrare i giovani interessati verso il materiale oggi soprattutto dal punto di vista di impatto ambientale, di sostenibilità, Unica ha pensato di fare un corso che è il primo nelle Marche, il secondo in Italia, proprio specifico sulla scienza dei materiali. Infatti è un corso interdisciplinare, chimica-fisica. Questa esigenza di questo nuovo corso nasce anche dal fatto che molti di noi sono impegnati con le aziende, con il territorio e hanno bisogno di persone, una preparazione in più perché dopo tre o quattro anni oggi i materiali vengono studiati con delle nuove problematiche, con le nuove realtà e il corso di laurea gli permette di avere quella mentalità aperta necessaria anche nel mondo del lavoro.